Campione e bella persona, fatecelo ripetere poi al di là del tifo, delle bandiere, insomma quel 2006 ci accompagnerà sempre. C'è Don Antonio Mazzi perché lo sapete non si chiude quest'ora senza di lui. Don Antonio come stai? Io sto bene, però quando interpellate alcuni tifosi di certe squadre mi viene un po' più ricapito. Sì no ma qui non è che stiamo parlando di una squadra, dai questo è proprio un campione super partes. Comunque messaggio a tutti i giovani, è libero solo chi sa darsi delle regole, è libero solo chi sa darsi delle regole, a tutti i giovani, capito? A tutti i giovani. Grazie, grazie Don, è una bellissima indicazione. Perfetto direi, meraviglioso.